I bambini e tutti coloro che vivono nella quotidianità e il dramma del disagio economico e sociale sono sempre al centro delle attività dell'Associazione Ultimi per la Legalità, fondata nel 2012 dal parroco di Scampia Donaniello Manganiello, un'associazione che nel suo presidio Foggia Gargano, coordinato dal vicepresidente nazionale Pietro Paolo Mascione, con le innumerevoli iniziative a sostegno dei più svantaggiati, racconta un'altra Foggia e un'altra Capitanata, una comunità più solidale. Il Natale di Ultimi quest'anno è stato denotato da una particolare attenzione all'infanzia, a quella deviata, a quella degli ospedali, a quella negata. I bambini come centro del mondo, come base per un futuro migliore. Queste le immagini delle donazioni effettuate dall'Associazione in favore della struttura opera San Giuseppe di Lucera, che si occupa di bambini e ragazzi con famiglie in stato di disagio e minori con problemi socio-affettivi e relazionali, e in favore del reparto di oncologia pediatrica di San Giovanni Rotondo. Sì, quest'anno abbiamo incentrato molto il discorso dell'infanzia, un'infanzia talvolta violentata all'interno delle quattro mura domestiche, talvolta comunque anche negata. Che tipo di accoglienza avete avuto, chi avete incontrato? Abbiamo avuto accoglienza straordinaria, ci sono stati determinate incontri che comunque ci hanno segnato. È stato un Natale vero, ricco, con i bambini, perché comunque i bambini ti arricchiscono sempre di un qualcosa. La tua associazione, l'esperienza della tua associazione, di cui sei vicepresidente, racconta anche un'altra Foggia. Esiste un'altra Foggia? Assolutissimamente sì. Parlare di Foggia come una realtà dalocride o come una realtà mafiosa non mi va, sinceramente, perché così come Scampia. Foggia è la stessissima cosa. Non mi va a genio, sinceramente, il fatto che per quelle poche famiglie, poche persone che comunque sono amanti della criminalità, passino per mafiose e anche persone che assolutamente stanno dalla parte del bene.